Oggi noi presentiamo un sistema nuovo, nuovo significa che ancora non è presente in commercio nel senso che i dispositivi di cui vi parlerò non sono ancora rimborsabili, quindi abbiamo avuto gratuitamente dall'azienda produttrice questo dispositivo di cui adesso vi vado a parlare, rivoluzionario, che però ancora, ripeto, non ha seguito la prassi regolare per avere la rimborsabilità. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema che metta assieme la classica puntura di insulina che noi siamo abituati a fare, però con una diciamo, chiamiamola penna perché così si chiama, particolare, che ha all'estremità, all'estremità c'è una sorta di dispositivo che nel momento in cui fai la puntura di insulina, automaticamente registra all'interno della penna per 800 punture di insulina, quanta insulina è fatta e l'orario in cui l'hai fatta. Quindi fino, la penna la conosciamo già vecchia e vecchia, questa penna non esiste ancora rimborsabile, ma non abbiamo avuto la possibilità di averne un certo quantitativo. Questa penna ci dà la possibilità di, per chi la utilizza, ma possono essere anche anziani, possono essere medietà, coloro che fanno terapia insulinica, avere la possibilità che loro fanno la terapia di insulina, ma automaticamente con un sistema che vedremo, questa dose di insulina, automaticamente senza che il paziente faccia nulla, fino a 800 glicemia, significa per un mese intero, vengono registrati in questo dispositivo che si chiama Connect Pen. questo dispositivo non fa altro che collegarsi ad una piattaforma, che ora vedrete, a questa piattaforma alla quale accedono due tipi di informazioni. Da un lato il signor ha fatto la puntura di insulina alle 8, alle 9, alle 10, alle 11, alle 20, quello che era, e viene registrato. Contemporaneamente, attraverso il sensore che l'utente ha, questo sensore istante per istante comunica l'eglicemia a questa piattaforma. A questa piattaforma accedono sia l'utente, ma anche i familiari, ma anche noi dal reparto, il che significa, io ho la possibilità di vedere di Luciano, quanta insulina ha fatta, Giuseppe mi segue, quanta insulina ha fatto, a che ora ha fatto quell'insulina, ma vado a correlare questa insulina che ha fatto con l'aglicemia che è istantaneamente nella stessa piattaforma cloud io ho. Quindi ho ciò, apro la piattaforma e questo paziente ha fatto l'insulina tot 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 tot, alcune volte i pazienti dimentichano di fare l'insulina, questo oggi non si può verificare, perché lo vediamo. Questo paziente ha fatto l'insulina e la glicemia mezz'ora dopo arriva alle stelle, magari dopo due ore è normale, ma lo verifichiamo, il che significa un controllo perfetto, accurato, globale della glicemia, per lui, per i familiari e per noi che curiamo queste persone. Su una piattaforma cloud significa da qualunque telefono, noi possiamo accedere. Lui stesso controlla l'aglicemia, come sapete, attraverso il telefonino con questo sistema c'è la pubblicità enorme in televisione per ora, questo è nato però circa otto anni fa il sistema. Quindi un sistema intelligente dove, ripeto, abbiamo con certezza, pensate agli anziani per esempio allettati, pensate ai caregiver, c'ha un ciaficero, un ciaficero, l'insulina, il familiare, accede alla piattaforma, alle otto l'ha fatta, alle due l'ha fatta, alle venti l'ha fatta. Quanto ne ha fatto? C'è scritto otto, sette, sei, cinque. Com'era la glicemia rispetto a quelle unità? Guarda, dopo mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, perché l'apparecchio registra le glicemie, una ogni cinque minuti per ventiquattro ore di fila per quarantotto giorni. Quindi abbiamo tutto l'andamento temporale delle glicemie di quella persona, la possiamo curare meglio, perché quella persona dice, ho mangiato oggi pasta e patate, la glicemia mi arrivò a 300, perché? Perché pasta e patate sono zucchiere e zucchiere, quindi lui stesso impara che quando mangia pasta e patate deve aumentare la dose di insulina, quindi un sistema intelligente che mira sempre più a che cosa? A che le persone diabetiche diventano medici loro stessi, sappiano, secondo le glicemie che mangiano, l'esempio della pizza che alza le glicemie, la correlazione della puntura fatta a quell'ora e con quella quantità, con quegli orari. Nel tempo, andando a vedere i grafici, tu dici, guarda, la glicemia ti sale regolarmente alle due di notte, perfetto, che facciamo alle due di notte? Oppure la glicemia ti scende regolarmente alle quattro del mattino. Quindi una maniera di, senza ricorrere all'alta tecnologia, ripeto, molti giovani non la accettano, 16 anni, 18 anni, 20 anni, non accettano, soprattutto d'estate, andare a fare, portare queste apparecchiature tecnologiche. Questo sistema che però invece significa poter fare la classica puntura di insulina e già il tutto resta reggessato in piattaforma e contemporaneamente avere un sistema che però è stato messo al braccio e che però metteremo nella parte bassa dell'addome, sotto lo slip che non si vede, dà una, diciamo, una minore, minore impatto su, perché oggi tu li vedi a mare, diciamo, chi è diabetico, chi ha la posa qua, chi ha la pompa messa. Quindi dà una, direi, una qualità di vita migliore, una migliore privacy, con risultati che tecnologicamente sono accettabili, fino accettabili, perché non hai alta tecnologia. Naturalmente faremo di tutto affinché questo dispositivo, che è una penna comune, come quelle che loro utilizzano, chi ha questa appendice che permette in maniera proprio perfetta la connessione da qua con lo scarico dei dati attraverso il telefonino nella piattaforma cloud. Quindi tutte le parti del mondo io vado a vedere le sue glicemie e a che ora ha fatto la puntura di insulina e quanta ne ha fatto. Quindi un passo avanti verso una tecnologia meno, diciamo, impegnativa, che però è estesa stavolta a tutti, non solo i bambini. Ovviamente con costi, che non c'è paragone, perché mettere una pompa completa oggi di 10.000 euro l'anno, questa è la cartuccia di insulina, le penne costeranno intorno a 70 euro, ma le penne già vengono regalate alle aziende e speriamo che lo Stato italiano, prima la Regione Sicilia, dia la possibilità di utilizzare queste penne che hanno anche la mezza unità pieno. Oggi le penne sono con l'unità singola. La mezza unità significa bambinette a tre anni, a quattro anni, a cinque anni, dove tu non puoi mettere l'ambaratante. Questo è il cellulare, questa è l'applicazione, noi andremo a memorizzare la penna. Scanzioniamo la penna. Io ho la penna, che ha in memoria 800 di queste glicemie, la penna la poggio qua, lui si scarica i dati. Praticamente il cellulare, quindi l'applicazione ha riconosciuto la penna e quindi noi andiamo avanti. C'è questa blu, ancora nascerà quella per la lenta, questa è solo per la rapida, deve nascere la lenta. Insulina è quella che abbiamo messo via questa e quindi qua ti compare quanta insulina ha fatto, configurazione con quanta insulina ha fatto, a che ora l'ha fatto. In parallelo, nella piattaforma, portiamola nella piattaforma, tu vai a leggere le glicemie che lui aveva e ti compare accanto alla glicemia e all'insulina che ha fatto. Esatto. Quindi il paziente stesso dice, guarda ho fatto questa puntura la glicemia era alta, devo aumentare mezza unità, cosa che non è possibile con le penne classiche, mezza unità in più. Devo ridurre mezza unità in più, oppure quando mangio pasta e fagioli su molto zucchero devo ricercare di ridurre la quantità di carboidrati o aumentare la quantità di insulina. Quindi l'obiettivo è medico diventa paziente, diventa medico di se stesso.